il pezzo che vi presento è un pezzo di pericolo insomma è conspirato chi sei perché non ti vedo ecco c'è sempre questa qua, mi date sempre questa qui, chi è? la madre è la sorella di Teuta perché la sorella di Teuta suona l'alba ma ti fai vedere? ti alzi, ti alzi, voglio vedere se sei a posto, anche se era una ragazza ragazza allora ascolta, fammi un pezzo molto serio, comunque cadenzato perché mi serve per questa, ok? serio per cortesia silenzia, se no respirate per un attimo ascolta io rispetto Bebe Giovane Bebe perché ho sempre fatto lavorare tutti, quasi però questa è quella canzone che io conosco che è la carota di Panelli, di Borgoro è la carota di Imi che non mi ricordo, la carota del Golfo di Panna ma che non mi interessa non mi interessa fammi senza i solpeggiare, il waltzer lo conosci così eh, non è che, no, adesso, voi ti chiediamo al bambino, se il bambino ti aiuta un po', eh, eh, ianananananananananana, ce la puoi fare, brava, così brava, brava, brava dai, dai, ce la fai, ce la fai io non capisco la gente che non ci piacciono i crauti bisogna andare molto caldi perché, 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 altra volta i crauti sono quella cosa che si schiaffano dentro ai barili dopo si vendono a Kimi un etto, due etti anche se non, 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 io non sapevo che la pistola era carica se io l'avessi saputo no, non avrei fatto così, così, così eh ora che il fatto è avvenuto portate via la morta un'altra volta starò più a corda e non farò più ricordo una sera a Barazze che tornavo allora vai ricordo una sera a Barazze che tornavo giù da Savona no, no, non era mica Barazze e non lo iraniano che sia Grazie a tutti.